Sì, Golf, Foxtrot da India Romeo Zero, India Sierra Sierra, vi ho porto chiaro, over. Sì, buongiorno a tutti, sono pronta, over. Buongiorno, quello che mi preoccupa di più come un po' tutti gli astronauti è di fare degli errori gravi durante la missione, quindi magari deludere tutte le persone che ci hanno addestrati, over. Sì, buongiorno a tutti, sono delle sensazioni di spupore, ma anche il classico, se vogliamo sentirsi molto piccoli di fronte alla grandezza dell'universo, over. Ciao, è difficile definire proprio un'esperienza più emozionante, però certamente la prima volta che ho visto la Terra dallo spazio è stato un momento che non dimenticherò mai. Over. Fondamentalmente bisogna riadattarsi al peso, quindi all'inizio sia i muscoli che il sistema dell'equilibrio, che il sistema vascolare, devono riabituarsi alla normale gravità della Terra. Over. Ciao, Daniele. Beh, diciamo che durante tutto l'addestramento è qualcosa sul quale ci esercitiamo e poi ce lo possiediamo anche in futuro alla direzione spaziale. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.